Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati alla nostra Rassegna Stampa, un grande saluto da parte di Emanuela Rossi, con molto piacere sono con voi anche oggi, ricordandovi che la Rassegna Stampa vi aspetta fino al sabato mattina per tutta l'estate, troverete su Rossini TV sia la Rassegna Stampa che il nostro telegiornale. Quindi non ci fermiamo mai, i programmi continuate a vederli, Estate Capitale, La Natura della Cultura, tutti i programmi che vi accompagnano così come c'è Capo Obiettivo Salute. Tutta la programmazione, amici, vi ricordo potete trovarla sul sito di Rossini TV così come potete trovare il Palinsesto e così come potete trovare tutti i programmi che noi produciamo ogni giorno. E grazie a tutte le persone che si stanno collegando sui nostri social, ricordandovi che noi siamo in diretta sia sul canale 80 ma anche sulla nostra pagina Facebook e in streaming sul nostro sito internet. Il meteo ci aspetta un fine settimana davvero bellissimo con temperature alte e sole per tutti i prossimi giorni, quindi veramente venerdì, sabato e domenica di grande sole. Le temperature di oggi, le vedete, vanno dai 24 gradi della mattina ma arrivano fino ai 29 gradi del pomeriggio sera. E poi la regione Marche, la vediamo ogni giorno piena di sole, soleggiata, come vedete le temperature e il sole che accompagnerà tutte sia la mattina che il pomeriggio e soprattutto, come vi stavo dicendo, un weekend all'insegna del sole, del mare e del bel tempo. E questa è la spiaggia che si trova sotto monte a Gabice, quindi salutiamo tutti i cittadini di Gabice, tra l'altro ieri sera avete proprio conosciuto la nuova sindaca di Gabice, mare e mari la Girolomoni, ieri sera è nell'appuntamento di Amministrando, poi chiaramente ci sono le repliche, potete rivederle, ad esempio oggi la vedete alle 22.30, domani alle 11.30, sabato alle 15.30, domenica alle 20 e lunedì alle 13.30. Conosciamo insieme i nuovi progetti per il comune di Gabice. E allora andiamo a vedere le prime pagine dei nostri giornali, partiamo oggi dal resto del Carlino, pioggia di soldi e zero controlli, aumentano i fondi concessi a opera maestra e stella polare. Nel Mirino le verifiche in comune. E poi Vallefoglia, dopo la morte dell'assicuratore, si scopre voragine di 2 milioni ma la compagnia non risarcisce. La foto invece è dedicata a questo. E Gabriel Pieri, un ragazzo simpaticissimo, uno dei ragazzi di Utopia, che prova il trattore perché Utopia dà lavoro a giovani disabili dopo il ristorante, gestisce anche un vivaio. Quei ragazzi più forti di tutto. E poi l'incontro che è avvenuto a Pian di Meletot con Acquaroli, 100 milioni per i borghi. Il caso di scarica, vincolo ambiente, la regione decide su riceci. A Borgo Santa Maria c'è stato un incendio, per fortuna non pericoloso, che non ha provocato danni nell'azienda Eva Gardene. E poi c'è anche la storia di Rosalba, che balla contro la violenza e si confessa campionessa. Lascia l'ambito territoriale Roberto Drago, che va in pensione, 44 anni dedicati al sociale. E poi nascita del nuovo Fano, il consorzio rinvia calcio, riunione senza svolta decisiva. Il Corriere Adriatico, invece, dedica la fotonotizia all'Uniurb, che rimonta grazie ai social. Recupera tre posizioni e torna nella top ten delle università in Italia. Meno esperti, ma iperpagati medici esterni reclutati per il 118 dalla società Gapmed. Guadagnerebbero più del triplo dei colleghi. L'Aster ha respinto le controproposte di direttore e sindacati. Incentivi agli interni, ipotes accorpate. E poi all'ex consorzio parte il cantiere via vai di camion. Pesaro lavori alla piscina fino a Ferragosto, tolti 50 posti auto. A Fano, nitrati nell'acqua, ma si potrà bere grazie all'impianto. E poi, terre roveresche, il sindaco è condannato, pignorateli l'indennità. Sebastianelli deve pagare le spese legali, il primo cittadino dice, ho presentato appello. E ancora oggi, torniamo a parlare di questa pioggia di soldi. Anche Maurizio, buongiorno Maurizio. Giustamente commenti, pioggia di soldi e zero controlli, ma quante ne hanno combinate? Ogni giorno, Maurizio ci saluta dalla ciclette. Ci sono anche le persone che la mattina, quando si svegliano, fanno ciclette. Quindi, buongiorno Maurizio. Quante ne hanno combinate? Ma soprattutto, ogni giorno escono, anche l'indagine che sta portando avanti il Carlino, e non solo, escono altre cifre, altri finanziamenti per progetti, che magari nessuno conosceva, e quindi i soldi dal 2022 ad oggi si stanno accumulando. Ma prima partiamo con le caratteristiche del servizio 118, medici pagati più del triplo, e con alloggio vista mare. La società Gapmed cerca personale per il 118, e per cercarlo, incentivarlo, chiaramente, offre 1.000 euro a turno, garantendo l'ospitalità anche ai familiari. Ne abbiamo già parlato ieri di questo argomento. E qui vediamo anche la retribuzione oraria, 25 euro ai medici convenzionati, 36 euro a un medico dipendente con 15 anni di servizio, in prospettiva 83 euro all'ora a un medico esterno, secondo la proposta della società Gapmed di Milano. Le postazioni territoriali di soccorso in provincia di Pesar Rubino, 9 H24 e poi una invece H12. L'Ast respinge le proposte di direttore e sindacati, Ruggeri serve l'auto medica. E poi a Fano serve la seconda ambulanza anche di notte, e qui vedete appunto Panaroni del Movimento 5 Stelle che incalza il sindaco perché sensibilizzi Saltamartini. Cambiamo argomento, si parla della zona del porto a Pesaro, siamo all'ex consorzio, questo cantiere che ha vissuto delle vicissitudini infinite, non è che a stento è stato appunto abbattuto e insomma questo cantiere tarda, ha tardato nei tempi, adesso non raccontiamo tutta la storia, ma il cantiere parte davvero per fortuna. Niente ferie al porto via vai di camion. Da lunedì e fino al 6 settembre, una media di 28 viaggi al giorno per mezzi superiori a 32 tonnellate. torri all'ex consorzio agrario al porto si fa sul serio, due ordinanze apparse sull'albo pretorio e mettono nero su bianco il passaggio sul ponte di Viale Gorizia. È un iter chiaramente travagliato, quello del progetto dell'immobile Calata 52 che vede in prima linea la Renco che ha visto la procura di Pesaro bloccare il cantiere nel febbraio del 2021. Tra i nodi il mutamento di destinazione d'uso, contrasto con le funzioni portuali. E poi ecco allora che lunedì prossimo dalle 8.30 alle 17.30 fino al 9 agosto il Comune ha dato il via libera a massimo 28 viaggi al giorno con mezzi carichi e massimo 28 viaggi al giorno con mezzi sempre carichi dal 12 al 17 agosto e infine per tutti gli altri giorni di agosto conclusa anche la conferenza degli servizi relativa alla fase di bonifica del sito. Quindi insomma ci siamo veramente e adesso queste due torri verranno costruite. E poi parliamo del club nautico. Oggi viene interpellato Francesco Galeppi che praticamente è il presidente del circolo dopo l'appello del sindaco per superare questa impasse burocratica. Ci sono 95 soci nel club nautico che non hanno ancora rinnovato l'abbonamento perché il circolo da tempo ormai e senza attività collaterale di ristorazione. E allora nel dettaglio è stato dei fatti e questo il dirigente comunale dell'urbanistica Mauro Moretti nell'ultimo incontro con il presidente e consiglieri del club nautico ha riferito pratiche alla mano che sono circa una quindicina le attività del settore nautica e servizi collegati in strada fra i due porti. E poi le conseguenze in primis il danno economico ci sono all'interno del circolo anche soci che hanno desistito ad iscriversi proprio perché non possono fruire di una serie di servizi che attualmente sono bloccati. E poi il provvedimento via Togliati i lavori si mangiano 50 posti auto fino a Ferragosto niente parcheggio per almeno tre settimane in questa zona appunto della città nell'aria perché si sta realizzando la nuova palestra legata alla cittadella del basket. E allora ecco il cantiere per la nuova palestra di via Togliati si mangia 50 posti auto fino a Ferragosto chiusa la piscina Salvi la piadineria e altri 30 stalli nuove disponibilità a partire da ieri come riportato nell'ordinanza. Il piano della cittadella del basket prevede la realizzazione di una struttura coperta polifunzionale da adibirsi a campo di allenamento o per agonismo basket e attività motorie. Forti agitazioni erano nate tra i residenti del condominio Lungofoglia circa 600 famiglie anche per la scelta della tecnica della vibroinfissione con il timore di produrre vibrazioni non tollerabili per gli abitanti poi l'amministrazione comunale aveva rassicurato gli abitanti della zona e con il tempo la situazione anche a sentire di recente gli umori dei residenti è rientrata e quindi adesso il cantiere va avanti e allora andiamo ancora avanti prima di andare alle pagine di Fano voglio salutare i nostri amici che cosa ci stanno scrivendo e allora grazie andiamo avanti e poi purtroppo Pesaro non funziona la sanità è vergognoso esatto Michela poi Newbarcollo Germano Epina buongiorno a tutto lo staff penso che presto avrò bisogno di voi visto che qualcuno non alza sto parlando di attività economiche per un permesso va bene sapete che potete contattarci il nostro numero delle segnalazioni su Whatsapp e il cellulare buongiorno Roberto da Trebbiantico Michela va a capire dove gli ha messi tutti questi soldi vediamo se viene indagato e poi buongiorno Rossini TV da Fermignano Pier Giorgio buongiorno a te salutaci Fermignano chiaramente e adesso siamo alle pagine di Fano sia al terzo tratto di ciclovia dall'hotel Playa al Metauro unanimità in consiglio per l'ultimo stralcio del progetto lungo l'Adriatica Sud questa infrastruttura qui vedete una suggestiva creazione di Pia Miccoli per la ciclovia adriatica e poi Fiorani l'addio quando il figlio sarà dimesso è coinvolto nell'incidente ha espresso il desiderio di partecipare all'esequie ha espresso il desiderio di partecipare al funerale del padre Gabriele Fiorani il diciottenne coinvolto in questo incidente terribile che lo scorso giovedì provocò la morte del genitore sull'Adriatica Gabriele si trova ancora ricoverato nell'ospedale di Torrette dopo aver riportato diverse fratture provocate dallo scontro della moto guidata dal padre e poi andiamo ancora avanti e vediamo cosa succede a Terre Roveresche il sindaco condannato richiesto il pignoramento dell'indenità deve pagare le spese legali Sebastianelli lo vedete qui ho appaltato la sentenza per il falso via privata asfaltata a spese del comune richiesto il pignoramento dell'indenità del sindaco di Terre Roveresche il caso riguarda la sentenza che ha visto il primo cittadino Sebastianelli condannato per l'accusa di falso in atto pubblico a sette mesi di reclusione con pena sospesa 5.000 euro di risarcimento e favore dei consiglieri d'opposizione e quindi questa è l'iniziativa della minoranza e adesso vediamo come si metterà questa brutta vicenda e poi andiamo a Gradara perché le casette dell'acqua aumentano sempre più casette dell'acqua con un occhio anche alla spesa Agabice Gradara e Tavuglia hanno già i loro punti di distribuzione del servizio sono 29 le casette d'acqua e di Marche Multiservizi che sono sparse in tutto il territorio provinciale e poi vi segnaliamo anche questi appuntamenti che sono a Cattolica che riguardano il Jazz Feeling Festival in Piazza Roosevelt questa sera alle 21 si esibisce l'applaudito Roberto Torri Quartet e poi andiamo ancora avanti anzi prima di andare allo sport passiamo al resto del Carlino di Pesaro e vediamo subito nella pagina 2 che cosa succede anche oggi trovate due pagine dedicate ai fondi del comune l'inchiesta che riguarda appunto i finanziamenti che sono stati elargiti in questi anni ad Opera Maestra soldi senza fine a Opera Maestra anche per un omaggio a Rossini e Santini dice è bellissimo l'associazione di Stefano è esposto ricevette fondi per un'installazione in 3D dedicata a un'opera del Cigno intanto l'opposizione va ancora all'attacco martedì chiederemo in consiglio la commissione di inchiesta e allora Opera Maestra e Stella Polare a 419 mila euro il 10 agosto del 2021 è stato presentato alla Pala di Pomodoro Moise Faraon il progetto in 3D più grande d'Italia si trattava dell'opera di Antonio Camarano in arte cubo libero che omaggiava Rossini in apertura dell'edizione del Roff in base alla determina di questo appunto agosto 2021 venivano stanziati 5.900 euro in favore di Opera Maestra di Stefano Esposto per coordinamento logistico supporto tecnico artistico inerente all'opera 3D di street art l'opera del costo complessivo di 11.000 euro è quindi risultato di sinergie collaborazioni e sponsorizzazioni e quindi chi ha pagato l'opera i consiglieri di opposizione hanno depositato in ordine del giorno urgente per il prossimo consiglio di martedì quindi sarà un consiglio molto molto importante e quindi seguiteci perché vi daremo tutte le informazioni su quanto accadrà intanto oggi al di là delle polemiche di questi giorni comincia il pre-paglio dei braceri e con esso tanti appuntamenti l'ormai consolidato bigliardino dei braceri e avrà luogo nel cortile esterne di Rocca Costanza dalle 21 mentre prima dalle 18 alle 20 e 30 il nuovissimo torneo over 10 dove anche i piccoli tifosi del palio potranno partecipare a suon di calcio balilla e poi ecco qui un'altra pagina che riguarda il buco nero dei controlli comune come un bancomat e tutto filava via liscio dalla giunta al dirigente nessuno ha frenato il fiume di fondi alle due associazioni e intanto il cascone di Valentino perde pezzi alla faccia della manutenzione andiamo a vedere dal 2021 al 2024 ad oggi sono stati elargiti 419.429 euro quindi street art 5.900 festival passatello col pesce in realtà si chiamava mare nostrum questo festival lo tengo a specificare perché noi ci abbiamo fatto dei servizi 12.000 euro manutenzione piazzale d'annunzio 53.000 euro una manutenzione che abbiamo visto che invece non sta avvenendo palio dei braceri 30.000 euro e pizza rossini eventi natalizi 27 palio dei braceri 2023 50 quindi da 30 del 2022 si è passati ai 50.000 del 2023 per il palio dei braceri poi young art festi 10.000 euro sono teca 62.200 euro braceri 2024 50.000 murale salporto 75.000 euro manutenzione murale se esistenti 43.188 euro tutti questi soldi sono andati all'associazione opera maestra con a capo questo ragazzo che si chiama Stefano Esposto e supportato comunque da Massimiliano Santini il comune affida ufficialmente il taglio dell'erba o il ripristino del marmo sintetico ad un'associazione culturale che nel frattempo faceva costruire il casco chiedendo sponsorizzazioni per pagarlo il casco realizzato con polistirolo legno ferro resine è comparso il 25 luglio 2022 con tanto di inaugurazione con vale che è passato quel giorno e poi non si è più visto da quelle parti infatti dopo due anni esattamente l'opera d'arte costata 53.000 euro si sta sciogliendo la vernice evaporando gli adesivi si stanno slabrando e il ferro non zincato difficilmente rimarrà saldo quindi questo è diciamo i pezzi che cascano da questo maxicasco poi al servizio dei deboli stiamo parlando di Roberto Drago che va in pensione ma il vescovo lo vuole per ora mi riposo da 44 anni nel mondo del sociale lascia la guida dell'ambito territoriale le origini con Don Gaudiano e oggi l'unione tra pubblico e terzo settore qui potete leggere l'intervista che è stata fatta appunto a Roberto Drago e poi si torna a parlare di Utopia di questo progetto portato avanti appunto al Parco Miralfiore che non riguarda solo la ristorazione ma riguarda anche il giardinaggio ragazzi con disabilità a tutto campo Utopia si dà anche al giardinaggio quindi l'associazione guidata da Boccanera gestirà il vivaio Pantanelli l'obiettivo è dare nuovi posti di lavoro a questi giovani con disabilità oltre ai 30 attivati al Miralfiore la proprietaria volevo sostenere un'impresa sociale per coronare un grande desiderio di mio marito abbiamo appena siglato l'accordo con la proprietaria del vivaio Laura Pantanelli per prendere in gestione l'attività vivaistica che in precedenza portava avanti lei assieme al marito Luigi Nococcia prematuramente scomparso spiega Andrea Boccanera e poi ci spostiamo a Montecicardo musica ultimo atto della rassegna conventi note conventi note oggi sarà l'ultimo appuntamento quindi al conventino dei servi di Maria alle ore 19 tornerà lo spettacolo tra musica storia e sapori e poi andiamo avanti altre notizie del territorio ricerci vincolo ambientale o no oggi la regione può dare la svolta attenzione attenzione perché è prevista la riunione della commissione Passeri ex sindaco di Petriano dice serve un atto di coraggio quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il destino del progetto della discarica di ricerci si riunisce questa mattina la commissione regionale per la tutela e valorizzazione ambientale che dovrà decidere se porre o no il vincolo ambientale integrale nell'area è giunto il momento di porre fine ad una lunga ed estenuante brutta situazione fatta di rimpalli di responsabilità di omertà e falsità Domenico Passeri ripercorre poi tutte le tappe di questa vicenda mi preme ricordare che i due uffici regionali hanno da tempo ricevuto la richiesta del vincolo ambientale con allegata copiosa documentazione ecco qui l'azienda Eva Garden l'incendio sul tetto che è avvenuto ieri alle 13 ci hanno avvisato i vicini vedevano le fiamme Roberto Bizocchi dice mio figlio ha preso alcuni estintori è salito sul tetto per cercare di scrivere le fiamme ha corso un bel rischio ma all'arrivo dei pompieri il fuoco era sotto controllo quindi tutto è a posto e poi le pagine di Fano la storia di Rosalba Barattini ballerina impegnata contro la violenza di genere la mia vittoria contro la violenza lei è campionessa di taglia di ballo da sole i miei brani dedicati alle donne che soffrono e poi la mensa dei poveri siamo sempre a Fano appello ai giovani aiutate gli anziani Fiorelli della Confesercenti dice e gli altri volontari della Caritas servizio per stare vicino a chi ha bisogno ed è solo e allora non chiamate la mensa dei poveri è un momento di socialità un servizio che gratifica chi lo fa e chi lo riceve così Pier Stefano Fiorelli uno dei volontari storici della mensa sostegno organizzato da Caritas di Ocesana per prendersi cura durante il periodo di chiusura estiva della mensa di San Paterniano di quanti vivono situazioni di difficoltà e solitudine con il sostegno di tanti donatori e poi poi andiamo avanti e chiaramente noi non possiamo vedo alcuni commenti non possiamo leggere tutto amici non possiamo leggere tutto i giornali chiedono anche di essere comprati quindi spesso alcune notizie ma lo vedete che certe pagine non posso leggerle tutte perché giustamente è una rassegna non è una lettura da cimo a piedi dei giornali così come fanno tutte le rassegne stampa italiane e non possiamo leggere tutti i giornali tutte le notizie quindi il consiglio è sempre quello comunque di acquistarli Pergola è più connessa arriva la banda ultralarga qui vedete l'appena eletto sindaco di Pergola Diego Sabatucci potenziata la rete di comunicazione con beneficio per aziende famiglie il sindaco dice interessato interessate 3672 tra case uffici e attività commerciali è finalmente iniziata quindi a Pergola la connessione delle unità immobiliari alla fibra ottica merito di Antonio Baldelli membro della nona commissione trasporti poste e telecomunicazioni e poi Urbino l'università aiuta le imprese del territorio avviato appunto ecco questo sportello grazie a un accordo con Confindustria Pesaro Urbino il prorettore vicario Vieri Fusi potenziamo l'innovazione e allora che cosa succede l'università d'Urbino per le industrie del territorio è stata presentata ieri mattina nella sala del consiglio a Palazzo Buonaventura la collaborazione tra Uniurb e Confindustria Pesaro Urbino partnership che ha dato vita all'iniziativa sportello imprese collaborare con l'università dice Andrea Baroni significa per noi potenziare l'innovazione e la competitività nei mercati internazionali anche attraverso la possibilità di intercettare fondi europei e poi a Pian di Meleto c'è stato invece un incontro dedicato ai borghi bellissimi del nostro territorio presente Francesco Acquaroli che ha annunciato la strategia della regione parola d'ordine rilancio rilancio appunto dei borghi che ci sono nel nostro territorio Paolo Marcheggiani dirigente regionale del settore turismo ha presentato gli strumenti per borghi e turismo a cominciare dal bando Borghi Accoglienza con 24 milioni di euro per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi storici che prevede fino a 500 mila euro a Borgo e poi notizie che arrivano anche da Urbania salutiamo anche tutti i cittadini di Urbania l'antica Castel Durante internalizziamo la nostra Urbania oggi parla questo assessore che è giovanissimo si chiama Andrea Alessandroni ha 25 anni è l'assessore alla cultura turismo eventi e scuola quindi ecco lui questo assessore appunto di 25 anni di Urbania Andrea Alessandroni professione insegnante il nuovo assessore alla cultura turismo eventi e scuola superiore qui potete leggere un po' il suo progetto per per Urbania e poi andiamo puntiamo fortemente all'internazionalizzazione della città e portare l'immagine di Urbania all'estero perché la città ha le potenzialità anche per arrivare a questi a questi mercati e poi cultura e spettacoli a Qualagna per l'allegria non c'è il binario morto torna festazione un inno ai treni torna il popolare appuntamento a Pole di Aqualagna menù ispirati alle varie attività dei ferrovieri un'iniziativa molto particolare domani sabato 27 domenica 28 negli spazi della vecchia stazione di Pole di Aqualagna si riparte con l'entusiasmo che caratterizza questa festa che si ripete da più di un decennio qui c'è tutto il programma e Sabrina la rassegna stampa mi dispiace non è a metà perché se se non leggo alcune notizie ma diverse lo facciamo tutti i giorni non possiamo leggere tutte le notizie questo non vuol dire che a metà vuol dire che falleggiamo l'80% sicuramente degli articoli che ci sono nei giornali ma non possiamo leggerli tutti perché abbiamo un tempo limitato e soprattutto è anche rispetto verso ai giornali che scrivono gli articoli e quindi tutti gli articoli non li possiamo leggere ma non è assolutamente una rassegna stampa a metà ci tengo a precisarlo perché se guardi altre rassegne stampa allora sono molto molto diverse quindi cerchiamo di leggere il più possibile nei tempi che ci sono nella trasmissione nel rispetto di tutti gli altri appunto giornali che leggiamo siamo arrivati allo sport la vis oggi col Venezia un test affascinante i biancorossi alle 17.30 a mestre quindi questa è una prova diciamo c'è un confronto con una formazione di A il coach Stelloni in generale sto lavorando per una squadra aggressiva ed equilibrata e poi notizie anche per quanto riguarda l'Ital Service che si affida al talismano del grosso al settimo anno in biancorosso sarà il tecnico in seconda e guiderà l'Under 23 e poi WL progetto vincente dell'Aurentis quando Sacripanti mi ha chiamato gli ho detto subito che ero a disposizione sarà un campionato difficile le società che hanno allestito roster forti sono davvero tante quindi insomma si sta muovendo si sta ultimando diciamo la WL tra poco usciranno anche nuove informazioni riguardanti questa squadra riguardanti anche gli abbonamenti e noi chiaramente di Rossini TV vi daremo tutte le informazioni necessarie per essere aggiornati su questa squadra grazie Filippo Baioni che dice fa i complimenti a tutti i volontari della mensa della Caritas Filippo grazie è vero si sono tutti i volontari molto molto importanti possiamo ecco andare sul giornale l'attesa della Megabox è terminata oggi si svela il calendario 2024-2025 perché l'attesa è finita appunto è oggi il giorno nel quale si conoscerà il percorso in serie A1 della Megabox e di tutte le sue 13 avversarie noi chiaramente vi daremo contezza nel nostro telegiornale di questa sera alle 19.30 in replica alle 20.30 come ormai sapete e poi il circolo della Vis i gestori pronti a riaprire che cosa è successo sono chiusi da mesi ma ripartiamo con l'Aspes il nuovo presidente Daniele Nanni dopo la visita della questura la scelta di chiudere firmeremo un nuovo contratto di affitto e allora qui vedete il presidente del circolo della Vis Daniele Nanni mercoledì 15 maggio c'è stato un controllo da parte della polizia dovuto alle numerose segnalazioni del vicinato che ha fatto un esposto in questura che ha riscontrato che all'interno del locale c'erano quattro persone senza tessera controlli di routine inoltre il servizio di somministrazione di bevande alcoliche era nominale ad personam ovvero potevano consumare solo i soci e invece c'era una persona che stava guardando la partita con una birra con sé hanno sanzionato e anche quel frangente Sergio Pedini che era ancora intestatario della somministrazione di bevande alcoliche una sanzione di circa 1000 euro e poi così accaduto dice siamo andati al SUAP lo sportello unico delle attività produttive dove rilasciano licenze di bevande alcoliche sembrava tutto a posto dopo aver prodotto documenti ma a un certo punto salta fuori che l'aria non più del comune era passata ad Aspes abbiamo quindi deciso di chiudere per metterci in regola fino a quando le cose erano tutte a posto insomma questa è stata la decisione e poi anche qui VL ecco Rino a due tosta ci divertiremo De Laurentiis altro scudiero di Sacripanti chiama raccolte i tifosi serve il sesto uomo spero siano carichi nonostante la retrocessione insomma è una squadra che cerca sempre forza e positività per questa retrocessione che è stata inaspettata e che purtroppo ha scoraggiato alcuni tifosi ed ora siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa amici regia andiamo a vedere che cosa ci propone oggi insomma la nostra emittente innanzitutto ecco ieri sera abbiamo conosciuto la sindaca Marilla Girolomoni che è la nuova sindaca di Gabice che prosegue il viaggio vissuto per dieci anni da Domenico Pascuzzi e lei porta avanti i progetti di Domenico li conosciamo questa sera alle 22.30 e poi in tutte le repliche che vedete qui e la puntata chiaramente la potrete vedere anche sul nostro sito rossinitv.it e poi alle 21.20 vi raccontiamo quello che è stato il Castello Magico di Tavuglia quindi anzi quello che sarà il Castello Magico di Tavuglia la presentazione dell'evento che si terrà appunto il 27 e 28 quindi preparatevi avete una bella anticipazione è un bellissimo evento l'ingresso è gratuito se questo weekend volete andare a Tavuglia questa sera vi mostriamo che cosa è il Castello Magico e poi il telegiornale come sempre vi aspettiamo con tutto il nostro staff per raccontarvi le notizie che c'è oggi appunto che ci saranno oggi nella giornata e vi racconteremo appunto questa sera e allora sì buongiorno Nicoletta Rossini TV sarà presente alla Sagra delle Pesche di Montellabato con uno speciale domenica pomeriggio grazie Nicoletta Tagliabracci la nostra conduttrice che ha risposto appunto ad alcuni commenti che dicevano che appunto siamo nel periodo della festa delle pesche a Montellabato una festa bellissima che ogni anno seguiamo e grazie alla nostra Nicoletta appunto Tagliabracci che è esperta di cibo locale di vino locale non solo che presenterà appunto questo evento sempre molto importante 7 e 53 minuti grazie per averci seguito saluto anche coloro che ci seguiranno nella replica delle 8 e 20 e così via nelle varie repliche fino al pomeriggio amici ci vediamo nei prossimi giorni vi ricordo che la rassegna stampa torna domani in diretta alle 7 e 20 buona giornata